Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono DrLG Oggi siamo tornati finalmente in un nuovo video Dopo un mese, finalmente sono tornata a fare video Magari verso quest'estate inizierò a fare un po' di video vlog Non so come li farò, ma oggi, regà, sono in compagnia di mio cugino Ciao Che mi ha aiutato, cioè in verità, mi ha aiutato Mi ha fatto scoprire questa app, cioè questo gioco che si chiama Joe Cage Casualmente ci troviamo E noi ci troviamo a... che vi spiego che cos'è Praticamente è un gioco in cui voi andate a vedere magari il video che vi spiegano meglio tutti i DF Vi lascio il link del loro canale in descrizione Dove mettono in diversi punti dell'Italia, città, paesi e bla 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 Vi lasciano... vi dicono le scaricate app che vi lascio sempre in descrizione Che vi danno tutte le spiegazioni della dimensione e la zona Noi ci troviamo in Levanto Liguria, vicino a Bonassola e alle Cinque Terre E praticamente ci troviamo nella chiesa di Sant'Andrea Che si trova in piazza Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea E praticamente venite qui e se lo volete fare dovete... il punto esatto dove si trova... questo... oh cacchio dove è... ecco... dove si trova... il... questa scatoletta qua con il foglio è esattamente qui Cioè praticamente voi, guardate eh... guardate... ehm... Voi siete qua in... in... dove c'è la chiesa Andate qua dove ci sono queste panchine Vicino al primo albero a sinistra Al primo albero a sinistra che è questo qua Che è questo qua E poi... voi andate verso destra Cioè perché voi vi... voi vi trovate qua ok Voi andate davanti, girate lì Un po' più a sinistra Poi a destra scusate Un po' più a destra Aia che cacchio è Vabbè comunque... allora raga Non... non affidateli troppo ai metri E al... e alle... alle... alle coordinate che vi danno No, allora le coordinate sono giuste Però il... 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 ma le coordinate non mi sembravano giuste Perché... scusa... scusate ragazzi Allora... il gioco... sto giocage Dice... cioè noi ci mettiamo qua Qua... e dice Qui... ci mancano due... due metri... due metri... tre metri Sì... e il metri... tu fai due metri... tre metri No... allora ragazzi Quello che... che... che cerca di dire È... praticamente I metri che vi danno Non li dovete guardare Sono... sono sbagliati Dovete... dovete... dovete andare verso il vostro istinto No... il verso il vostro... è il sfinto Istinto... è il sfinto E però anche... dovete seguire il posto Questo qua Il... il bollino verde Perché quello aiuta Perché si vede che là... vicino... a... vabbè... quando si vede c'è il riflesso Eh... vieni qua Così vede il cacchio Qua... vedete il bollino... il bollino verde Qualità di video Ed è la zona... è la zona... dove... Dove... è la zona dove c'è il... il muro e la panchina Dove sotto... qui... in questo buco... troverete il giocheggio Scriverete il vostro nome... e... eh... questo ovviamente... l'abbiamo trovato in... 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 in due giorni ragazzi... in Liguria Allora... lui... non voleva tornare più... perché ha detto... vabbè... tanto non lo troveremo mai... Ma no... ma alla fine... cioè lui mi ha convinto... dico... andiamo... tanto vabbè... tanto non lo troviamo... Io dico... guarda qua... guarda che è lì... non so... è qua... e lo troviamo... cioè... bubba... Pensare che noi siamo stati... due giorni... a cercare questi buchi... a guardare su... ad andare nelle panchine... a girare come... come dei deficienti qua in zona... E pure... scesi... abbiamo... abbiamo cercato indicazioni su... su Google... abbiamo fatto tutto... 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 un casino... per trovarlo... E poi... lì... cioè... non so... comunque... eh... se venite qui... se volete trovare il giocheggio... noi ve l'abbiamo rimesso a posto... qua... in questa zona... dove vi abbiamo spiegato prima... Ragà ragà... un'ultima... eh... cosa... allora... vedete qua... c'è tutta la mappa... tutti... quelli... verdi... sono già stati trovati... quelli... invece... eh... grigi... grigi... o già... o bianchi... scusate... sono quelli... da trovare... qua è tutta la zona di... della Liguria... è molto vasta... e a Milano ce ne sono un sacco... solo che adesso non fa vedere... non li fa vedere... perché... perché noi... cioè... la geolocalizzazione del... del telefono... è su Levanto... esatto... fa vedere solo quelli vicino a Levanto... vabbè... comunque... ah... ecco... no... ecco... sì... sono riuscito... cosa... allora... questi sono quelli a Milano... io... eh... vi direi... il più facile... eh... scusate... no... ho sbagliato... che il più facile... è... dove c'è... eh... Decathlon... dove c'è... eh... dove c'è... eh... Decathlon... dove c'è... eh... 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 dove c'è... lì dove c'è il castello sforzesco esatto davanti esattamente sapete dove è decathlon poi se no prendete google maps e lo trovate cercate il castello sforzesco e poi vabbè comunque ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like e iscrivetevi che siamo quasi a 100 iscritti quindi mi raccomando sì siamo ma che cacchio stai dicendo questo dicevo non è vero ragazzi questo non ci crede siamo 92 iscritti quindi mi raccomando iscrivetevi che siamo quasi a 100 cercherò di fare uno speciale cercherò di portare più vlog possibili poi in questa in questa estate visto che non ho il computer per fare video questa è la zona di levanto e poi questa è la chiesa di sant'andrea intanto gli squira il telefono e dove c'è anche il la la panchina dove c'è il il muretto vabbè comunque io spero che questo video vi sia piaciuto comunque lasciate like iscrizione come avevo detto prima da dottore alleggera mio cugino è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella